bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono tega322 e oggi siamo su una nuova serie chiamata skyblock scusate se sotto ci sono tutte cose tutte cose ma se cavolate il livello 7 non vi preoccupare altri livelli non servono niente a questa serie spero che vi piaccia in questa serie ci sono 15 obiettivi quindi per ogni obiettivo devo mettere il vetro tipo il vero bianco naturalmente va per il primo poi secondo terzo quarto quinto sesto bec e via così quando ha finito sarà finita la serie vediamo gli obiettivi però esclusa la terra perfetto è vero qui c'è una cesta abbiamo una cesta è vero ci sono queste cose che per il momento lascio perché se muoio sono cavoli almeno un seme ragazzi dovrebbe stare giù in fondo non lo so per sforza perché se non posso non posso continuare vabbè speriamo che stia sotto intanto prendiamo così già possiamo fare il cobblestone generator intanto per mettersi alla stessa giusta scaviamo tutta statera non mi do no conoscere di fare male nella scala con questo è vero che sono materiale non mi dobbiamo dire a scocciare le cose di reale se devo mi raccocciare come se me ce c'è la aldo non si sa però sono vedo le giù sono un aspetto a queste poste ma stai faccio ti vede grazie che vorrei come si cazate vedi sotto quindi mi faccio ti vedi scusate uno spoiler però prendiamo mettiamo la terra a posto iniziamo andare in miniera cosi è che non ve lo dicevo che c'era una cesta 3 enderfell buone due mucche si deve fare la farm di mucche montone cotto e arbusto di arbusto di quercia cobblestone generator quindi prendiamo cobblestone acqua e lava facciamo un 5 perfetto ok ora si cuida di chiaro un attimo a lì ok sono ancora lì non vediamo che sta facendo questa cosa ok ok quindi qui ci va il blocchetto d'acqua puoi scendere l'acqua vedi l'acqua non tocca e facciamo che l'acqua cadere in grado è ancora meglio allora così mi possono tirare bene il culo poi se non mi sbaglio qui dovrà andare a questo blocco qui c'è l'acqua e qui c'è la lava vediamo si ragazzi come stai in grado fatto li mettete qua li spaccate e abbiamo il cobblestone generator però qui c'è un problema vabbè dopo lo aggiusteremo andiamo verso l'altra isola fatto oh vediamo cosa ci sarà ah per creare il portale del nether però non c'era negli obiettivi quindi non ci andrò qui possiamo fare subito la farm di cacao arrivare all'altra isola le farm di mucche farm mucche che dici la faccio adesso? però dove le metto? un'altra acqua e dobbiamo fare una zappa l'albero ancora non nasce perché non nasce? così perfetto ah ma adesso ce la mettiamo questa volta appunto quindi mettiamo questi tre qua no uno due tre poi prendiamo questo e lo mettiamo qua qua che dovrebbe che dovrebbe nascere o qua o qua mettiamolo qua per sicurezza anche se ci vorrebbe intoppare la via perché se no quando ci stanno i mob come faccio? ci vorrà perché ci vorrà ragazzi sono è spawnato è spawnato è spawnato uno zombie dai qua sono cresciute le cose perfetto qui ho fatto un altro obiettivo ho fatto due obiettivi ragazzi intanto cosa? 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 non ho capito non ho capito non ho capito ragazzi ucciso dammi un po' di corazza dammi un po' di corazza che quello skeleton non posso ucciderlo non cadere, non cadere perfetto mi ha dato un osso lo trasformo in fannina d'osso perfetto è cresciuto l'albero e ragazzi spero che ragazzi 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 spero che questo video vi sia piaciuto e iscrivetevi commentate fate tutto quello che volete e noi ci vediamo nel prossimo video